Che pagare le tasse sia un dovere fuor di dubbio, tanto quanto lo scarso buonumore che spesso accompagna questa pratica se la pressione fiscale viene giudicata eccessiva. Ma che pagare le tasse sia anche difficile, appare a molti cittadini inconcepibile e inaccettabile. A Bassano per evitare il formarsi di code agli sportelli, il Comune ha deciso di organizzare l'apertura dell'ufficio Tributi solo su appuntamento con prenotazione online o via telefono, ma in un ufficio che conta un personale ridotto da 4 a 2 unità più un part-time, l'effetto è che la coda da reale è diventata virtuale. Appuntamento che in questi giorni è arrivato a 30 giorni, ora i cittadini che mi fermano per strada mi confermano questa situazione, di conseguenza mi sono permesso di fare una mozione per la riorganizzazione completa dell'ufficio. Io chiedo che vengano allargati gli orari per il pubblico, non solamente per appuntamento ma anche liberamente, che se hanno problemi di personale attingano da altre realtà, dalle altre aree persone che debitamente formate dovrebbero dare un servizio adeguato. Quando si deve pagare una tassa c'è anche una scadenza da rispettare generalmente, se i tempi di attesa sono così lunghi c'è anche il rischio di sforarli. E' già successo questo a Bassano, che i cittadini sono stati posizionati addirittura dopo la scadenza, di conseguenza erano costretti a pagare anche la mora. L'amministrazione ha detto che si tratta di pochi euro. Io credo che sia una cosa che non vada bene. Il cittadino bassanese deve essere messo in condizione di accedere liberamente agli uffici comunali, di poter parlare con i funzionari e poi di pagare in maniera corretta le proprie tasse.